Dunque, ieri sera Juve Avellino Mi ha fatto venire in mente uno spot pubblicitario di qualche tempo fa che diceva ti piace vincere facile Sì Te lo ricordi? Sì, come no? Ecco, niente, l'Avellino è evidentemente di un'altra carattura tecnica oltre che di un'altra categoria calcistica, visto che è in Serie B e niente, si è visto tutto, questo divario immenso la Juve ha giocato in pratica con le seconde linee qualche nome così messo lì a caso a parte e ha vinto strafacile strafacile nel primo tempo e poi nel secondo tempo non ha voluto infierire secondo me, anche visto il clima che si era creato sulle tribune con i tifosi dell'Avellino che evidentemente hanno fatto un figurone festeggiando diciamo che c'è stato, chiamiamolo, un gemellaggio ideale senza nulla di concreto, senza accordi, senza niente ma ogni volta i tifosi della Juve si rispettavano quelli dell'Avellino e viceversa in un clima molto molto simpatico per cui credo che la Juve non abbia voluto andare oltre il già rotondo 3-0 appunto per non umiliare ulteriormente dei ragazzi che non se lo meritavano per cui dico che è stata una serata molto molto importante soprattutto per due cose il ritorno evidentemente in campo di Simone Pepe era una vita che non si vedeva più era un anno e passa che non si vedeva più ed è stato molto importante perché Simone ha avuto uno di quei infortuni carogna che non si riesce mai a debellare completamente ha sofferto tanto, ricadute e via dicendo per cui rivederlo in campo è stata sicuramente una gioia per tutti e la seconda cosa è il discorso Giovinco Giovinco ieri mi pare che sia stato a idea di tutti il migliore in campo e questo va a suffragare la tesi di chi dice che Giovinco è bravo con le squadre piccole se tu lo metti contro il Bayern Monaco sparisce se lo metti contro l'Avellino fa la figura del fenomeno e questo qualcosina evidentemente vorrà dire anche nella testa di Antonio Conte di chi deve decidere appunto chi metterlo in campo nei momenti che contano Grazie 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 Grazie